Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixelpax e oggi siamo qui finalmente con il room tour. È da anni che me lo tenete, penso da quando ho aperto non ho dato megapixel che c'è sempre qualcuno che in privato sotto nei commenti mi scrive Pixel ma quando fai room tour, ma room tour, ma room tour? Anche perché poi con le live su Twitch, a proposito seguitemi sul canale Twitch non ho dato megapixel e un po' la camera si è vista, comunque ci sono le inquadrature, anche nei video un po' l'avete guardata già. Quindi oggi finalmente facciamo il room tour. Si parte! Prima di entrare in camera mia vi faccio una premessa. È piccola, non è decisamente la camera più spaziosa e grande però ci sono riuscito a fare stare tutto. Vivo qua fin da piccolo quindi mi sono diciamo adattato con il tempo e quindi le riprese saranno un po' difficoltose anche perché devo fare le inquadrature e non ho un grande angolare come obiettivo quindi eh, sarà un po' complicato, ma cercherò di fare del mio meglio. Sappiate che comunque camera mia è circa 3 metri per 4, quindi non è tutto questo gran spazio. Appena entrati in camera, sulla destra troviamo il TP-Link che è quello che mi fornisce il connessione internet e wifi a camera mia perché ho il modem dall'altra parte della casa e quindi in questo modo riesco a portarmi la connessione cablata fino in camera mia. Funziona abbastanza bene, non è il massimo, ma ci accontentiamo anche perché genera una sua rete wifi e quindi praticamente ho il wifi più vicino e riesco a usarlo tranquillamente. Questo qua sotto che vedete qua, questo qua rosso, qualcuno magari l'ha già riconosciuto ma è il nodo della pace e l'ho preso quando ho fatto il mese in Cina, vivendo in Cina in una famiglia cinese. Magari è una cosa che vi racconterò più avanti, però ci sono molto affezionate quindi l'ho messo qua così tutte le volte che arrivo in camera accendo la luce e lo vedo. Infatti qua poi abbiamo l'interruttore per la luce e altre prese. Quello che vedete qua, che è altissimo ovviamente, è alto due metri, è il mio metro. Come potete vedere parte da 57 centimetri che è quando sono nato, quindi il 14-18 del 98 e c'è il peso e man mano che salivo, cioè man mano che crescevo, mia mamma ma sempre misurato, qua tipo ad un anno, poi a un anno e mezzo e via così, fino ad arrivare appunto ai 18 anni. Ci siamo fermati appunto ai 18 anni. E praticamente questo metro qua ce l'ho appunto fin da piccolo e diciamo traccia un po' tutto il percorso della mia vita fin da quando sono nato alla maggior età. Ogni anno, per il mio compleanno e per il mio mezzo compleanno, quindi per il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, quindi quando compio i sei mesi insomma, mi misuravo, mi pesavo e lo sognavamo qua sul metro. Robina così, però è carina perché comunque è un ricordo della mia infanzia. Qua in basso invece trovo a posto il mio nuovissimo skate che mi sono costruito io, del quale vi parlerò tra poco. In seguito abbiamo questi due altissimi, veramente alti, sono tipo alti 3 metri, armadi che contengono tutti i miei vestiti e altre cose tipo gli zaini. Continuando il room tour abbiamo questa bacheca che contiene tutte le mie mini 4WD preferite. Non sono tutte, infatti le altre saranno dietro di me, qua ci sono io, ciao. E questo qua mi ha costruito il mio nonno e quindi diciamo lo uso per esporre le mie mini 4WD che in quel periodo mi piacciono di più. C'è tutta la serie delle Let's & Go e altre serie un pochino più vecchie. Oppure questa qua, tipo che è la mia prima mini 4WD. Sopra di esso trovo a posto alcuni progetti che ho fatto, tipo la mini 4WD con la telecamera integrata per filmare in pista, un modellino che avevo vecchio e alcuni miei vecchi modellini da gara. Tipo questa qua è stata la mia prima macchina da gara con il quale ho vinto tipo 3 campionati, che appunto vedete qua le varie coppe e altri modellini, tipo questo qua è quello speciale Giappone. Sotto alla bacheca delle mini 4WD trovo a posto la gabbia di Zen con i vari peluche che vi vedete sempre quando siamo in live e ovviamente qua è dove sbuca Zen quando ci viene a salutare mentre sono in diretta. A proposito, seguitemi in live su Twitch. Continuando troviamo questa super mega libreria a colonna, anche se è molto alta, nel quale ci sono i miei libri preferiti, tipo la serie di Miss Peregrine o gli Harry Potter o altri libri che ho letto durante la mia infanzia ma al quale mi piacciono molto. E poi dopo c'è lo scompartimento per il Medikit di Zen e altre sue cosine tipo la pettorina. Nell'angolo in alto a destra trovo a posto questi due mega scaffali dell'IKEA che ho preso recentemente, nel quale ho messo ad esempio tutti i peluche di quando ho fatto dei viaggi. Ogni viaggio che facevo da piccolo mi portavo a casa un peluche e ce ne sono altri qua sotto, tipo qua c'è Totoro del Giappone. Poi c'è Robo Sapiens che è stato il mio primo robot programmabile che adoravo, Stitch, Buzz Lightyear, questo panda qua della Trudy che mi ha cucito mia nonna al vestito da scout e alla mia divisa di quando facevo scout. Anche di questo magari vi parlerò più avanti. Questo qua che è stato il primo gioco che ho avuto quando sono nato, questo topolino qua e altre cosine. Sotto di quello abbiamo questo mega sandardo della Tamiwa che è la marca che fa le mie mini 4D che ho vinto a una gara. In basso invece troviamo questo mini raccoglitore con dentro tutti i miei set Lego vecchi e sopra questo qui qua che se vi ricordate l'ho montato in live e lo trovate anche sul canale YouTube. Questo cavo nero che parte invece gira dietro tutta la libreria e arriva appunto qua dietro, sopra la gabbia di Zen, perché c'è la prima striscia LED di camera mia che illumina sia la gabbia che lo sfondo durante le live. Ai piedi del mio letto c'è un piccolo letto dell'IKEA che Zen usa come cuccia e che usa anche per saltare sul mio letto la mattina per svegliarmi. Dopodiché abbiamo il mio mega letto che è 2 metri per una piazza e mezzo. Queste coperte le adoro, tutto così dello spazio anche perché le stelline sono glow in the dark e quindi è bellissimo. Poi attorno alla testata del letto, adesso non so se si vede benissimo perché comunque c'è luce, ma c'è tutta una striscia LED che gira e ho messo le luci rosse perché sono quelle meno luminose ma comunque illuminano un po' la stanza e per dormire la notte è ottimo. Ecco come potete vedere qua appunto ci sono la striscia LED e fa questo bellissimo effetto. Posso ovviamente cambiare colore però mi piace rosso perché comunque dormire di notte è più rilassante per me. E questa striscia LED gira anche qua sotto e illumina parte del sotto al letto. In quest'angolo qua, oltre al mio pigiama, troviamo anche questo cuscino che fa parte della mia sedia. È quello lombare ma io non lo uso perché lo trovo un po' scomodo e che lo uso per coprire il cavo e il controllore dei LED così che Zen non lo va a rosicchiare. Sempre per impedire a Zen di saltare sulla scrivania o comunque di andare attorno al computer che si trova appunto qua dietro, ho messo questa tendina in questo pezzo di ferro che faceva già parte della scrivania in quanto era la parte vecchia del mio letto. Quindi io avevo un letto a castello qua sopra e sotto avevo la scrivania e invece che adesso ci ho messo questa tendina. Questa ragazzi ovviamente è la mia scrivania, è enorme, è lunga due metri anch'essa ed è divisa in varie sezioni. Questa qua in basso è quella che uso per lo studio, al momento è vuota ma di solito è piena di libri, ho messo un po' in ordine. Qua c'è la postazione che vediamo tra pochissimo quando l'accenderò, ci sono vari scaffali e direi di partire da qua sopra. Allora la prima sezione è dedicata appunto alle Mini 4WD, a tutte le scatole da collezione, quindi sia quelle che avete visto montate nella bacheca sia quelle che contengono ancora le Mini 4WD. Qui sopra c'è la tavola video che ho costruito io con la plushette di 98 megapixel che ho usato per adesso una volta sola ma magari lo useremo più avanti anche. Attaccata alla scrivania troviamo ovviamente due sedie, una per quando vengono i miei amici a studiare da me o se devo appoggiarci qualcosa e poi la mia sedia da gaming che però purtroppo ha già qualche annetto, ha già quasi tre anni e inizia ad avere qualche acciacco tipo qua si sta aprendo, qua e quindi probabilmente tra poco la cambierò. Anzi se avete qualche sedia da gaming da consigliarmi fate pure nei commenti. Ora ci spostiamo alla postazione da gaming vera e propria che è quella che penso interessi alla più. E allora, lì c'è una ciabatta che controlla le varie prese dei led, della luce qua sopra che anche se ha led, è tutto controllato ovviamente da Alexa, sono tutte smart plug e anche il computer è collegato da Alexa. Infatti se diciamo Alexa accendi computer, come potete vedere il computer si è acceso, la tastiera anche e adesso si avvia. Mentre si avvia vi spiego un po' cosa c'è. Allora qua c'è la mia 24 Battle, borracina per quando faccio le live, comunque è comodo avere una borraccia sulla scrivania perché mi ricorda di bere. Poi qua abbiamo due casse della Creative che sono vecchissime, hanno più anni di me, però funzionano ancora bene anche se l'ho dovuto modificare. E quindi adesso tipo questa qua doveva essere la destra invece a sinistra perché ho invertito i cavi per sbaglio, però comunque funziona bene. Poi abbiamo la mia tastiera che è della Cooler Master, era di un bundle, non è eccellente però il suo lavoro lo fa, è a membrana. Qua sotto troviamo il mio portatile per l'università che vi ho già fatto la recensione sul mio canale YouTube, l'ho trovato ovviamente cercando sul canale. Qua appunto c'è l'assistente che non devo nominare, il mio gamepad per quando gioco al computer che è dell'Xbox One, l'hard disk nel quale archivio tutti i video e anche l'altra cassa. Poi appunto qua abbiamo il mio computer, l'altro monitor che è un monitor di recupero quindi è dell'Acer vecchissimo, però come secondo monitor ragazzi va abbastanza bene. Il mio microfono che è il Samsung Meteor Mic, il supporto per il telefono, un hub USB della Trust che è un po' scrausino però fa il suo lavoro, il mio smartwatch che al momento è ricarica e gli appunti per l'università. Questo qua è il mio bullet planner nel quale insegno tutta la mia vita, l'ho costruito io e magari ve ne parlerò in un altro video, anzi fatemi sapere se vi interessa qua sotto nei commenti. Poi vabbè c'è il mio innalatore per l'asma, le mie cuffie Bluetooth, il telecomando delle luci LED e altri appunti. Quando ovviamente devo giocare, qua il microfono è attaccato a un'asta, quindi allunghiamo l'asta e viene qua davanti e quando faccio la live è tutto a posto. Questo qua è il mio desktop avviato, adesso lo metto a fuoco, ok? Che continua anche di qua. E ovviamente la mia postazione da gaming, quelle che vedete normalmente che uso quando faccio le live, qua sopra c'è la mia webcam che è la Logitech C922 Pro. Funziona molto bene, mi piace molto, ovviamente è in controllo luce quindi addio che la vedete, però vi garantisco, ok lei? Ok, e ora parliamo un attimo delle specifiche del computer. Allora, ho cambiato di recente il case perché avevo problemi di surriscaldamento in quanto era poco raffreddato. Adesso questo case qua ve l'ho mostrato quando ho modificato il mio computer, quindi già l'avete già visto come era. E da un attimo di specifiche tecniche, allora la scheda madre è della S-Rock, ha un i7 come processore, raffreddamento a liquido integrato che gira tutto anche qua sopra. Ovviamente è tutta LED, quel valore che si possono cambiare a piacimento. Ha due ventole qua sotto in entrata e una e due in uscita. La scheda video è stata cambiata di recente perché la mia vecchia, che era una 1060, si era danneggiata, adesso magari vi farò un video dove la sistemiamo. E l'ho cambiata con una GTX 1660 Super, che funziona molto bene e mi dà un sacco di soddisfazioni. Per il resto ho 16 GB di RAM e ho altri due slot liberi che magari riempirò in futuro. Questo case è stupendo perché ha questa rotellina che ti mostra il liquido che gira all'interno del sistema di raffreddamento ed è veramente bellissimo. E ovviamente, per rimanere in tema sui colori del blu di camera mia, ho fatto anche il case tutto blu. Poi abbiamo attaccato tipo il Totoro Mignon che ho preso quando sono andato a fare il Giappo Tour e un altro sacchiotto che ho fin da piccolo. Bene, spero che il Room Tour ti sia piaciuto e soprattutto se ti è piaciuto ricorda di lasciare un bel like e di iscriverti al canale, così non perditi nessuno dei nuovi contenuti che pubblico ogni giovedì alle 14, qua sono a 8 megapixel. Ti ricordo inoltre che mi trovi su Instagram, Facebook e Twitch, tutti i link ovviamente qui sotto in descrizione, e soprattutto di entrare all'interno del gruppo Telegram, link ovviamente qua sotto in descrizione, per poter parlare con me insieme a un sacco di altre persone super interessanti. Tutto questo, io ti ringrazio ancora e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!